buongiorno a tutti telespettatori di le fonti tv e benvenuti con questo nuovo appuntamento di new insurance oggi parleremo della brand reputation del valore della reputazione nel nel mondo delle aziende in particolar modo e lo faremo attraverso un esperto del settore a proposito proprio del brand reputation prima anche del lockdown proprio da questi studi avevamo parlato con daniele chieffi che a capo della comunicazione del dipartimento dell'innovazione della presidenza del consiglio dei ministri che ha scritto proprio un libro sulla reputazione ai tempi dell'infosfera ebbene in questo libro si afferma come imprese istituzioni media enti in generale in generale investano oltre di 12 miliardi di dollari proprio per questo capitale immateriale la reputazione e allora come garantirne il giusto valore e non esporla a dei rischi del cosiddetto danno reputazionale allora oggi ne parliamo e ho l'immenso piacere di avere qui con me l'ingegner Stefano Agnesi amministratore partner di Mida società di brocheraggio con oltre 40 anni di attività nel brocheraggio assicurativo grazie ingegner per essere qui con noi grazie a voi buongiorno a tutti e spero che questo diventi un dialogo e un intervento interessante che ci porti qualche riflessione da condividere lo sarà sicuramente e partiamo proprio dal valore il valore della reputazione quanto è importante per le aziende e come si calcola? beh parto da una citazione citando Forbes che sostiene che circa il 75% del valore di un'impresa può essere dovuta a una reputazione, questo fa pensare quei 12 miliardi di dollari che lei ha citato prima questo fa pensare a quanto possa valere ed essere importante nell'economia e nella valutazione di un'azienda è chiaro che cos'è la reputazione? la reputazione sostanzialmente è la percezione che deriva da elementi pubblici questo vale sia per le persone fisiche che per le aziende addirittura Forbes sostiene che la reputazione di un'azienda è per circa il 45% o perlomeno potrebbe anche essere per circa il 45% dovuta alla reputazione del proprio CEO per cui pensate che influenze e che sovrapposizioni ci può essere tra il valore della reputazione aziendale e quella dei propri manager allora il concetto di reputazione è la leva sulla quale un'azienda o una persona crea un rapporto di fiducia con gli attori con cui interagisce che possono essere sia il rapporto clientela per cui servizi o prodotti che io vado a offrire che gli stessi organi di controllo, i dipendenti, gli azionisti e quant'altro per cui quello che deve creare e far pensare è il lungo periodo cioè un'azienda deve costruire una propria reputazione avendo ben chiaro quali sono i valori che vuole trasmettere e continuamente adeguarsi a quelli che sono anche i fattori esterni che possono cambiare e variare l'evento Covid, non voglio essere banale nel citarlo sicuramente è un evento che ha cambiato completamente noi stessi e il nostro modo di interagire per cui anche dal punto di vista di pianificazione di strategie di reputazione che hanno un impatto come dicevo prima sul lungo periodo bisogna fare delle riflessioni ben profonde e magari aggiustare la rotta a seconda di quelle che sono le esigenze dicevo che la reputazione è una delle leve sulle quali anche dal punto di vista finanziario abbiamo dei riscontri per cui una solidità una reputazione solida chiedo scusa è dimostrato che da un'azienda ha anche una capacità finanziaria e una capacità di crescita superiore però mi piace anche sottolineare che non è solo una questione di business development cioè di crescita di business perché ho il mio brand o la mia azienda, il mio prodotto che è noto per cui cresco ma anche una difesa perché è stato dimostrato che un'azienda che abbia una reputazione più solida più strutturata sia più in grado di resistere è più resiliente come si doveva dire ultimamente è molto inflazionato è sicuramente molto più resiliente per superare momenti di crisi chiaramente rispetto a quello che era una volta oggigiorno che viviamo in un mondo in cui internet la fa da padrone in cui internet infatti la rete ha un ruolo esattamente ci ha cambiato completamente il modo di vivere ma soprattutto anche il modo di mantenere le informazioni la reputazione che deve avere una durata cioè un lungo periodo una volta era verbale una volta era un passaparola è sicuramente uno degli intangibles delle aziende come il know-how per cui è uno di quelli valori che sono poco misurabili ma che portano però adesso abbiamo degli strumenti molto più tecnici più oggettivi abbiamo una memoria cioè adesso il biglietto da visita di un'azienda la reputazione è un qualcosa di concreto qualcosa che rimane che è accessibile a tutti e che rimane nel tempo perché su internet quello che viene scritto non viene cancellato salvo il diritto all'oblio e andiamo in altri in altre tematiche in altre tematiche in altre tematiche facendoci muovere sempre in zone di comfort per cui dove noi abbiamo delle una vicinanza dove ci identifichiamo questo è tipico di Facebook che ci porta sempre dei post molto allineati con il nostro modo di gestire quel social no ai limiti poi adesso insomma con questo documentario del social dilemma su Netflix di cui si è parlato molto anche per gli impatti sappiamo poi è molto condizionante è molto condizionante il libro stesso di Chieffi citava proprio la questione della reputazione al tempi del digitale è un qualcosa di molto diverso proprio per le ragioni che lei stava già dichiarando e quindi anche i rischi in parte possono essere accelerati se noi pensiamo che la reputazione TripAdvisor è un altro elemento di creazione di reputazione il più diffuso il più noto il più facile il più accessibile e quello che permette di avere come dire un feedback immediato di chi come me sta vivendo la stessa esperienza per cui ha una credibilità superiore teniamo presente che adesso il 65% della popolazione si fida di più di quello che sono i feedback in termini di internet che non i media normali piuttosto che per cui è diventata fonte di informazione Facebook come fonte di informazione e questo vuol dire che in un mondo dove il like vale no i follower i like cioè dobbiamo anche capire che negli ultimi 10 anni è cambiato tutto questo per cui anche nella costruzione della reputazione di un'azienda bisogna evolvere in continuazione e andare a tarare quello che è il nostro obiettivo senza mai perdere di vista il messaggio che vogliamo dare ma magari cambiare i canali di comunicazione le modalità di comunicazione e perché no anche gli strumenti di comunicazione chiudo facendo un riferimento a quello che ho detto all'inizio è molto importante anche la reputazione della persona fisica cioè oggigiorno il vero biglietto a visita di un manager è quello che dice il web per cui se io devo incontrare lei per un incontro di lavoro sicuramente prima vado su LinkedIn vedo quali sono le sue esperienze quali sono le sue conoscenze e così creo per cui bisogna stare molto attenti dare molto peso a questo perché spesso si incontrano dei profili lacunosi nebulosi non chiari allora bisogna cercare anche di adeguare proprio per il valore che può avere la reputazione di un manager sto parlando chiaramente dell'altra dell'altra dirigenza ma in assoluto quello che può avere l'impatto della reputazione di un manager su il valore della reputazione dell'azienda bisogna stare anche molto attenti a gestire in modo congruo e adeguato a quello che è il ruolo del manager che il manager ricopre insomma una responsabilità che quindi anche in termini proprio reputazionali del singolo e sappiamo quanto questo pesi anche per grandi aziende o anche nel mondo italiano degli imprenditori illuminati ovviamente hanno poi un seguito Ferrero Luxottica sono guidati e hanno oramai una reputazione di aziende illuminate molto attenti e dipendenti con prestazioni di welfare all'avanguardia cito due esempi che oramai hanno costruito negli anni con vari strumenti e grandi investimenti questo tipo di reputazione infatti adesso arriveremo anche con altri esempi a proposito dell'altra faccia della medaglia cui prima accennavo accanto appunto al valore di una buona reputazione ci possono essere però un bel po' di rischi anche collegati proprio all'accelerazione digitale a tutti gli strumenti che bisogna utilizzare allora come gestire i rischi e secondo poi lo vedremo da un cartello quelli che possono essere considerati tra i maggiori rischi per un'azienda viene considerato proprio scalato un po' di posizione al terzo posto troviamo proprio quella del rischio del danno reputazionale ecco lo stiamo vedendo secondo l'Alliance Global Corporate and Specialty proprio del 2020 assolutamente questo è un survey che Alliance fa ogni anno e chiaramente raccoglie informazioni e feedback nel mondo delle aziende qualche mese prima ma lo pubblica nel 2020 questo è uscito credo a febbraio per cui ante covid e non a caso evidenzio questo perché comunque non che sia cambiato molto perché il covid ha avuto grossi impatti anche sulla business interruption è in corso un adiatribo un dialogo e una serie di approfondimenti su quello che può essere i danni alle interruzioni di attività la business interruption che è vista come vedete lì al primo posto anche in funzione di quello che è l'interruzione della produzione dedicata al lockdown il lockdown mio perché ha creato sicuramente un anno di interruzione dell'attività con una diffusione capite che il mondo dell'assicurazione sia un mattimino chiuso a riccio perché di fatto la business interruption come è intesa in termini assicurativi è un'interruzione di attività dovuta a un sinistro materiale diretto come siamo noti cioè come conosciamo per cui il tema covid avrà un impatto anche sulla business interruption di cyber se ne parla tutti i giorni mi viene da dire se ne parla persino al bar cioè oramai e anche in questo in questo come si dice il settore il covid ha cambiato gli scenari perché abbiamo avuto un home working perché non era uno smart working lo sta diventando adesso a distanza di alcuni mesi a distanza di alcuni mesi e non con una applicazione totale corretta per cui l'home working ha creato soprattutto improvviso ha creato un utilizzo degli strumenti digitali estremamente pericoloso aprendo dei varchi in maniera considerevole noi abbiamo un abbiamo avuto un utilizzo di device personali su rete aziendali e vpn poco protette vpn sono le linee di trasferimento dati piuttosto che wifi domestiche utilizzate per vedere netflix per fare le lezioni dei figli e per trasmettere documenti ai miei clienti piuttosto che per cui capite che tipo di varchi possa avere aperto un utilizzo di questo genere subito dopo viene prima ancora delle catastrofi naturali che stiamo vivendo tutti i giorni settimana scorsa avevamo 30 gradi adesso abbiamo 15 gradi 20 gradi per cui i climate change i cambiamenti climatici le catastrofi naturali vedete che sono addirittura dopo la perita di reputazione e di di brand value si può citare magari qualche qualche esempio non ce ne vogliano coloro che verranno presi allora io credo io credo che questa questa analisi che è stata redatta appunto nel 2019 abbia subito la forte influenza dell'evento del 2018 di Dolce Gabbana che avendo sbagliato tre episodi nella campagna pubblicitaria in Cina non avevano fatto i conti con un rinvigorito senso nazionale dei cinesi che hanno comunque boicottato tutto il mercato cinese di Dolce Gabbana le scuse che sono seguite a mio avviso ma non sono un esperto non sono state così celeri il fattore tempo di cui adesso non abbiamo ancora parlato ma nella reputazione soprattutto in un momento in cui il 25% della diffusione di un evento in termini internazionali avviene nella prima ora e il 70% quasi nelle prime 24 ore capite che l'immediatezza e la capacità e la professionalità di intervento per sanare certe situazioni è importante per cui io credo che l'evento Dolce Gabbana che non conosca i numeri a fondo ma sicuro qualche centinaia di milioni di euro all'anno di fatturato nel mondo cinese gli sono costati oltre a una perdita di immagine estremamente significativa e un crollo anche del valore dell'azienda stessa per cui abbiamo sia una perdita diretta di fatturato che una perdita di come si dice di valore intrinsico dell'azienda la reputazione è spesso considerato un rischio a differenza di altri un rischio trasversale è un rischio di secondo livello è un rischio che differenziandosi dagli altri può essere di secondo livello perché può essere conseguenza o quantomeno è quasi sempre conseguenza di altri rischi di altri rischi operativi e in maniera trasversale può colpire tutti per cui noi possiamo avere un incidente che va a colpire la salute piuttosto che la sicurezza e da questo avere una perdita di reputazione piuttosto che possiamo avere eventi di attacchi cyber piuttosto che infatti che tra l'altro restano almeno sempre al secondo posto per cui voglio dire è un livello che può diventare sommarsi in maniera esponenziale può crescere perché se io oltre all'attacco cyber dove entrano nella banca in San Paolo entrano e danno in giro tutto il successo con il ranking delle dichiarazioni dei redditi per cui io ho il danno materiale devo recuperare e ho perso di credibilità perché sono attaccabile mi hanno attaccato e mi hanno violato le difese la vulnerabilità la vulnerabilità esattamente per cui bisogna bisogna considerare che l'azienda e la reputazione dell'azienda è l'impresa più che l'azienda è spesso costituita da aree di reputazione per cui io ho la mia reputazione complessiva globale è la somma di quello che chiamano il ground reputazionale per cui la somma di singoli ground reputazionali per cui più io ho una capacità di avere ground solidi ed nel tempo stabili più tutta la mia reputazione aziendale risulta essere stabile ricordiamoci che cito un esempio che è molto oramai molto lontano nel tempo e ha subito le dinamiche completamente diverse che è stato il ribaltamento della Mercedes classe A negli anni 90 un evento che pochi si ricordano però è stato usato come casa di studio per andare a analizzare certi processi lì cosa è successo Mercedes grosso marchio affidabilità ha pompato l'uscita del primo monovolume la classe A peccato che appena è uscito il famoso test dell'Alce la macchina si è ribaltata prima reazione lasciamo parlare dei tempi perché eravamo in epoca non internet per cui i tempi erano molto più prima reazione dare la colpa alle gomme seconda reazione capire che c'erano delle responsabilità assumersi le responsabilità modificare e introdurre un elemento le SP che è un elemento tecnico che dà stabilità al veicolo come plus per cui alla fine dopo poco tempo già dopo uno o due anni le vendite erano stra aumentate per cui usare un elemento negativo un evento negativo che mi può causare la distruzione della responsabilità facendo leva sulla mia reputazione non credo di aver toccato il microfono sulla mia reputazione sulla mia reputazione come punto di forza cioè Mercedes è sempre stata affidabile per cui può scivolare ammette lo scivolone recupera e recupera ancora di più in maniera esponenziale quella che è la sua credibilità e di affidabilità se voi pensate Ferrero che è un pochettino più a me piace fare questi esempi perché ti fanno capire che cosa Ferrero che qualche anno fa aveva avuto delle lamentele perché l'estate il cioccolato creava quella patina di bianco che tutti noi abbiamo visto e cosa ha fatto Ferrero è due o tre anni che a giugno e luglio fa una campagna pubblicitaria dicendo sospendiamo le vendite e ritira tutte le vendite non fa più consegni di cioccolatini in giro e lo dice in televisione cioè quello che era un evento negativo quello che era un limite non imputabile a lui perché il cioccolato col caldo si è mai conservato per cui non è colpa di Ferrero che non fa bene il cioccolato è intrisico lo ha usato per dare un segnale forte della sua reputazione di attento alla qualità e attento al consumatore anche contro le vendite e questo è un messaggio che è fortissimo è un messaggio forte infatti questi sono tutti esempi rispetto a un terzo diciamo macro tema che volevo affrontare con lei in questi cinque minuti che ci restano proprio rispetto alla gestione poi di possibili danni reputazionali o di crisi collegate a cyberattacchi che abbiamo visto insomma essere insomma considerati in Italia ma anche a livello globale un rischio molto forte ma anche appunto per difetti di prodotto ecco come si gestisce un danno reputazionale e che ruolo hanno le assicurazioni in questa possibile gestione parliamo di assicurazioni questo tema che è da tutti mal visto allora se noi partiamo da un flusso che è l'evento la diffusione mediatica la percezione negativa e il danno reputazionale che ne segue in tutto questo flusso noi abbiamo comunque una serie di costi e una serie di azioni da fare perché il danno reputazionale così come il danno cyber o come il danno e l'inquinamento sono danni che hanno bisogno non solo di un pagamento a valle parlo dell'ambito assicurativo di un pagamento a valle di quelli che sono i danni o le eventuali perdite ma anche di un intervento di professionisti in tempo reale molto tempestivo ed estremamente competente in profondità per cui quello che deve fornire una compagnia di assicurazione e ce ne sono che lo forniscono non è solo le perdite il danno diretto per cui i costi i costi di comunicazione i costi di consulenza il monitoraggio nel tempo che questa questa diciamo pessima figura venga riposizionata in una posizione e non solo la riduzione dei ricavi non solo l'eventuale perdita di valore del brand e quindi conseguente perdita di valore dell'azienda ma anche tutto l'aspetto consulenziale perché è molto importante che chi interviene intervenga in maniera tempestiva parlavamo prima ora e 24 ore dove si arriva al 70% tempestiva competente capace e che conosca gli strumenti e le modalità di comunicazione e di gestire la comunicazione o di intervenire per bloccare una comunicazione che può essere lesiva perché può essere qualche blogger che interviene e comincia a ledere per cui è un prodotto assicurativo è una copertura assicurativa che è dinamica interattiva e deve essere proprio utilizzata non solo come trasferimento finanziario tipico delle assicurazioni dei rischi residuali che non si riescono a gestire o a mitigare ma anche proprio uno strumento di interazione nella gestione della crisi perché questo è il momento focale dove si può far partire in maniera esponenziale la crisi oppure gestirla e renderla e mitigarla come spesso ci si augura succeda proprio abbiamo pochissimi minuti però le volevo chiedere a proposito di brand reputation del settore assicurativo la prima città spesso mal visto dipende anche perché il mondo assicurativo soprattutto nel periodo dell'emergenza ha dimostrato invece a livello di reputazione di essersi mosso bene che voto possiamo dare al comparto assicurativo nella gestione dell'emergenza domanda da un milione di donne il comparto assicurativo è molto difforme per cui direi che tendenzialmente c'è stata grande sensibilità sicuramente ai primi tempi per cui un otto di reazione c'è stata nell'applicazione poi di certe cose scendiamo un attimino scendiamo un attimino però devo dire che nel momento del lockdown un momento che a noi sembra adesso così lontano ma che ci ricordiamo è ben presente nei nostri menti le assicurazioni le principali compagnie di assicurazioni hanno cercato di trovare degli strumenti di supporto sia in termini proprio di assicurazione che anche psicologico da dare agli assicurati o alle aziende da dare ai propri dipendenti per cui c'è stata una sensibilità e tutto questo all'inizio ha generato anche forme di beneficenza e forme di sostegno a iniziative di vario genere per cui sicuramente c'è stata una sensibilizzazione poi adesso c'è tutta una diatriba sulla la paura della sinistrosità che ne può portare eccetera per cui non entriamo in tecnicismi troppo complessi però questa è c'è stata sicuramente una reazione direi abbastanza pronta nell'attivarsi per dare dei segnali agli assicurati perfetto salvo alcuni casi particolari di cui magari avremo modo di parlare e di indagare assolutamente sì perché c'è qualcuno che lo ha cavalcato usandole in maniera non troppo e sappiamo che l'IVAS ci sta lavorando sta quantomeno andando a verificare ecco diciamo così che è giusto prima di noi sospendiamo magari il giudizio esatto prima di giudicare a proposito di reputazione infatti perché giustamente cerchiamo di essere coerenti con quello di cui stiamo parlando allora prima di lasciarci vorrei far vedere appunto anche il sito di di Mida Broker insomma che potete comunque consultare ecco vi posso dare anche l'indirizzo www.midabroker.it in cui insomma poter ritrovare un po' quelle che sono le attività appunto di cui l'ingegnere Agnesi è espressione e per cui la reputazione di Mida passa anche attraverso di lui ho recepito come dicevamo prima assolutamente noi ringraziamo nuovamente l'ingegnere Stefano Agnesi per essere stato con noi e l'appuntamento è per ulteriori approfondimenti e dare magari delle pagelle sulla come è stata gestita eventuale un'eventuale crisi reputazionale anche durante tutta l'esperienza Covid ma cerchiamo di tenere magari di allontanarci un po' di più sperando che così avvenga prima di dare appunto i cosiddetti giudizi assolutamente grazie ancora grazie a lei grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV grazie